Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Camion sbanda in A14 e si schianta contro il New Jersey Ferito un 58enne di Mondolfo, traffico in tilt per più di un'ora Strade pericolose per i ciclisti, i fanesi chiedono provvedimenti Giorni da bollino rosso per la zanzara tigre L'esperto ci dà alcuni consigli contro l'infestazione dell'insetto La CNA riporta la moda in piazza a Pesaro con Anna Falchi, Vaporidis e Leveline Buonasera e benvenuti a questa prima edizione della settimana di Occhio alla Notizia Apriamo questa edizione con un incidente, un incidente autonomo che si è verificato questa mattina Intorno alle 7.30 lungo la corsia nord dell'A14 tra Pesaro e Cattolica Un 58enne di Mondolfo era a bordo di un camion quando per cause ancora in corso di accertamento Ha perso il controllo del veicolo schiantandosi contro il New Jersey Dopo lo scontro il mezzo pesante si è rovesciato su un fianco ed è finito di traverso occupando due corsie Il conducente rimasto incastrato tra le lamiere della cabina è stato estratto dai vigili del fuoco Dopo circa un'ora di lavoro L'uomo ferito in modo non grave è stato trasportato da un'ambulanza del 118 fino al casello di Cattolica E poi all'ospedale regionale di Torrette a bordo di un'eliambulanza Sul posto anche la stradale di Fano per i rilievi di legge Il traffico che ha subito rallentamenti è stato fatto defluire sulla corsia d'emergenza E la Guardia Costiera in azione nella giornata di ieri a Pesaro è stato tratto in salvo un diportista Mentre a Fano si è svolta un'ampia esercitazione Noi eravamo a bordo di un'unità della Guardia Costiera per documentare la giornata Un'operazione di soccorso in mare per un'imbarcazione da diporto partita da Fano E' stata conclusa dagli uomini della Guardia Costiera di Pesaro nella giornata di ieri L'allarme lanciato intorno alle 11 al numero blu di emergenza 15.30 Richiedeva l'aiuto per un infortunio avvenuto a bordo di una barca a motore A causa di una caduta accidentale di uno dei due diportisti dopo un'onda anomala E' stato così disposto l'immediato intervento di una moto vedetta Che al momento si trovava in attività di pattugliamento della costa Nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro con a bordo il personale della Croce Rossa Del comitato locale del capoluogo L'equipaggio è riuscito ad intercettare l'unità con il diportista infortunato Si tratta di un turista di 69 anni proveniente dalla provincia di Milano Che lamentava forti dolori fisici per un grave trauma alla spalla L'uomo è stato poi trasportato dal 118 al San Salvatore di Pesaro per gli accertamenti del caso Sempre nella mattinata di ieri nelle acque del litorale fanese Ha avuto luogo un'ampia esercitazione di soccorso in mare Organizzata e coordinata dall'ufficio circondariale marittimo L'obiettivo è stato quello di testare i reali tempi di intervento Ottimizzare le comunicazioni radio e consolidare l'efficienza del dispositivo di ricerca e soccorso Cinque mezzi navali impiegati nelle tre diverse emergenze 36 uomini e tre cani abilitati al sabataggio in mare Un'esercitazione complessa che ha richiamato la curiosità e l'interesse di bagnanti e di portisti Che a tratti da fumogeni e razzi russi si sono spostati sulla battigia di Bagnicarlo Lido 2, Lido 3 e Bagnarzilla per assistere in successione alle diverse operazioni All'intervento hanno preso parte oltre ai militari della Guardia Costiera Gli uomini del Cibiclub Mattei, della Società Nazionale di Salvamento, sezione di Fano Desea Rescue School, K9 e dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Mare Dentro Hanno partecipato inoltre al club nautico Viviani e lo stabilimento Balneare Bagnarzilla L'iniziativa ha confermato l'esistenza di un efficace e puntuale dispositivo di gestione del soccorso in mare Da parte dell'autorità marittima ma anche di una collaborazione costruttiva con gli enti di protezione civile Che si sono confermati una solida risorsa del territorio fanese A proposito di protezione civile, come di consuete dopo le elezioni politiche regionali Vengono eletti anche i nuovi referenti provinciali e regionali del volontariato di protezione civile Per la provincia di Pesero e Urbino è stato riconfermato all'unanimità Armando Rocchetti di Cagli Per quanto riguarda i gruppi comunali Silvano Paiarini per le associazioni Mentre Saverio Olivi del CB Club Mattei di Fano E Tamara Carducci del gruppo comunale di Caldarola Avranno i compiti di rappresentare le associazioni e i gruppi comunali a livello regionale Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Urbino Dopo 4 anni il capitano Antonio Dima lascia il comando della compagnia Per ricoprire il nuovo incarico al nucleo di polizia tributaria di Venezia Il successore è il tenente Arcangelo Mottola Proveniente dal secondo gruppo di Roma con sede a Ostia Dove ha ricoperto per 3 anni l'incarico di comandante di sezione operativa E adesso vi mostriamo lo stato in cui versa parte della carreggiata di via del ponte a Fano Dove i residenti lamentano una pericolosità per chi vi transita a due ruote Vediamo il servizio Dalla parte di qua non puoi andare perché c'è il marciapiede La via è stretta, il pezzettino Se vai un pochino più sulla strada ti prendono sotto Per cui è molto pericoloso C'è qualcuno che ha rischiato di farsi male? Io per prima Tanta altra gente Perché come dico lì quando sei uno che non c'è nessuno Cioè vai oltre, cammini tranquillo Invece quando passano le macchine è così È molto pericoloso Dal momento che hanno fatto quel pezzettino all'asfalto lì Potevano arrivare fino più in qua Ma non pretendiamo all'asfalto Ma almeno il ripristino di quel pezzettino I residenti di San Lazzaro lanciano l'allarme sullo stato in cui versa una parte della carreggiata di via del ponte Dopo i lavori raccontano eseguiti dalla Telecom Rischiamo di farci male ogni volta che transitiamo in quel punto in sella alla bicicletta Dicono e l'amministrazione comunale deve intervenire prima che qualcuno possa farsi male sul serio Una situazione pericolosa segnalata già da diverso tempo sia all'ufficio del sindaco Che a quello competente dell'urbanistica Ma ad oggi nulla è stato risolto È un punto pericolosissimo Perché le macchine arrivano quando vedono il verde Sfrecciano, vanno E se tu sei lì con la bicicletta Siccome c'è un pezzettino così in alcuni punti Non sono tutti Però dall'asilo fino al semaforo Ed è molto pericoloso Perché tu se prendi con la ruota e ti vai lì dentro Non sai cosa fare Siccome lì hanno fatto un lavoro fatto male Perché non hanno richiuso bene, acceduto alla strada Che lo ripristinano Se non può, a spese del comune Lo facciano fare, facciano rivanza sulla ditta che ha fatto i lavori Noi quando facciamo qualcosa Noi dobbiamo ripagare anche se sbagliano gli altri Io penso che sia giusto Sia un dovere dei cittadini che pagano le tasse E che la strada sia sicurezza d'uomo Perché lì ci vanno che i bambini Ci vanno tutti E parliamo sempre di incidenti Perché rallentamenti e lunghe code si sono formate Ieri sera tra Fano e Pesaro A causa di un incidente accaduto all'altezza del ponte dell'Arzilla Intorno alle 19.45 Una Peugeot 207 con a bordo 4 ragazzi È finita contro un'auto in sosta Al lato della careggiata I giovani rimasti feriti in modo non grave Sono stati trasportati dal 118 all'ospedale Santa Croce Sul posto anche la polizia stradale di Urbino Per i rilievi di legge Un piccolo incendio è divampato la notte scorsa Intorno all'1.30 In una pizzeria di Corso Vittorio Guiafano 2 Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco Ha evitato il propagarsi delle fiamme Innescate per cause ancora in accertamento Sicuramente accidentali Da forno a legna A fuoco per fortuna Solo una catasta di legna adiacente Ma i danni sono estesi anche alle lampade Con il paralume sciolto a un televisore Vidotto a uno scheletro E sono inutilizzabili anche i cartoni da asporto Per naturalmente motivi di igiene Anche il basamento del forno risulta Annerito e danneggiato E necessiterà di riparazione E l'ondata di caldo che ha colpito l'Italia In questi giorni ha causato sicuramente L'incremento di un insetto La zanzara e in particolar modo anche la zanzara tigre Noi abbiamo intervistato un esperto Per sentire quali sono i rimedi E come affrontare questa emergenza Sentiamo le dichiarazioni che ha rilasciato Nel servizio curato da Simona Zonghetti Torna il caldo e tornano anche le zanzare Qualche rimedio che utilizzate? Ah l'antizanzare e gentali in beta dopo E quelle racchette con quelle colpite? No, con le racchette lì ce fa poco Quali sono signore i rimedi contro le zanzare? Quest'anno insomma sono ritornate purtroppo Sì sì però i rimedi non lo so So che da noi sarebbero le zanzariere Penso come soluzione definitiva Però in realtà poi dopo si danno tutti Quegli spray eccetera Che poi non fanno bene Per cui specialmente ai bambini non fanno bene Però d'altra parte come si fa? Ci vorrebbe che l'amministrazione comunale Facesse un intervento non dico risolutorio Ma insomma ecco Segnalata per la prima volta nel giardino di un asilo a Genova Nel 1995 La zanzara tigre è arrivata in Italia probabilmente Con il commercio di pneumatici usati nel porto della città Ligure Da lì si è diffusa facilmente in tutta la penisola In seguito allo scambio di merci e al trasporto di persone Fino ad arrivare nella regione Marche Dove i primi avvistamente risalgono a luglio 2002 Nella zona di Ancona Definita tigre per l'aggressività e non per le striature Lungo il suo corpicino nero con strisce bianche Nel nostro paese è attiva da maggio ad ottobre E a volte anche fino a novembre Ed oggi mentre l'Italia boccheggia e soffre il caldo Soffocata dall'ondata di affa che l'ha colpita E di nuovo allarme zanzara tigre Secondo i dati del bollettino meteo di Vape Foundation Divulgati da Anticimex Fino al 15 luglio saranno ben 67 Le province con l'indice potenziale di infestazione più alto di questo insetto In una scala di intensità da 0 a 4 Nelle Marche l'allarme si concentrerà soprattutto Sulle province di Ancona, Macerata e Pesero e Urbino A me onestamente dove abito io? Non è poche Dove abita? A bell'occhio Quindi rimane in una zona abbastanza Mi salvo un po' con la racchetta e poi Quindi mi difendo bene diciamo La racchetta, le candele profumate E poi in entrato Si cerca di difendersi con queste piccole cose Come ci può Le previsioni in coincidenza con l'innalzamento delle temperature Coinvolgeranno anche la zona settentrionale della penisola Con la maggiore presenza di fiumi e faldi acquifere Luogo privilegiato da questi insetti per il deposito delle uova Quali sono le possibili soluzioni per contrastare le invasioni di zanzare? Ma c'è da dire innanzitutto che quest'anno Con un aumento di temperatura così esponenziale Nel giorno di pochi giorni Ha fatto in modo che il ciclo vitale delle zanzare Durasse da soltanto 4-7 giorni Quindi dal momento in cui si iniziano le uova Prima che si trasformano in larvo Poi pupo, poi adulto Nel giro della settimana il ciclo vitale si esaurisce Le cose principali che si possono utilizzare Magari pratico È vestirsi magari con indumenti di colore chiaro E in base dopo al principio attivo Possiamo suggerire di utilizzare dei prodotti Dove per i bambini magari di sotto i 3 anni Dove non c'è il death Deve essere death free Perché hanno visto che è leggermente tossico per i bambini Mentre invece andiamo magari un po' più sul professionale Si possono andare ad utilizzare dei prodotti biologici o non biologici Sia adulticidi che larvicidi Andare magari a mettere delle compresse a base di diflubenzoro Nelle varie caditoie, tombini O comunque dove ci sono acque stagnanti Non dare da inibire la proliferazione delle zanzare Mentre invece magari nei giardini dove abbiamo molto verde Quindi con pitospori o con piante Con parecchie foglie Andare ad utilizzare dei prodotti adulticidi Quest'anno sono tornata anche da lei le zanzare? Sì Dove abita? Verso il mare o nell'interno? Via Roma Via Roma E come fa? Che cosa utilizza per contrastare questo fenomeno? Un po' di pazienza e un po' di... Mi spruzzo un po' di vape Quindi così Cerca di difendere? Mi cerca di difendere Io poi sono un tipo che dorme con le tapparelle abbassate Meglio soffrire il caldo e non le zanzare E proseguono gli incontri culturali denominati Incontrarci Il prossimo appuntamento è per martedì 14 luglio alle ore 21.30 Nei locali del Circolo Arci Artigiana con Bosnia 1995 L'incontro vedrà protagonisti gli scrittori Tullio Bugari e Giacomo Scattolini che oltre a proporre I loro libri presenteranno anche le opere fotografiche dei due autori L'appuntamento si concentrerà in particolare su Sebrenica nel ventesimo anniversario del genocidio Parliamo di manifestazioni sportive perché l'aeroporto di Fano è stato il teatro di un record Raggiunto dalle farfalle dell'aria Il record femminile italiana di grande formazione Omologato dai giudici in campo secondo il regolamento della Federazione Aeronautica Internazionale Per l'occasione sono arrivate da tutta Italia le atlete più preparate Tra le migliori a livello nazionale La presidente dell'associazione Domo Mia ha ricevuto dalle paracautiste la cifra raccolta Nella due giorni dell'evento devoluta in solidarietà ad una causa rosa In tema con la manifestazione E andiamo a Pesaro invece perché in piazza una folla di 5.000 persone Ha assistito allo spettacolo annuale che la CNA mette in scena CNA Idee in moda sul comparto tessile Tutte le aziende il meglio del meglio Radunato in una passerella che ormai sta diventando un appuntamento irrinunciabile Gio Squillo ha presentato ancora una volta la manifestazione E noi eravamo lì con le nostre telecamere Vediamo che cosa è successo Piazza del Popolo gremita oltre ogni più rose aspettativa per CNA Idee in moda Il grande filet organizzato dalla CNA per promuovere il settore del tessile e abbigliamento La nona edizione del defilet è stata salutata da una piazza del popolo stracolma di gente Si stima almeno oltre 5.000 persone A corse per l'ormai tradizionale appuntamento con il fashion e la moda Ma anche per le tante stare su brette televisive Ospiti della manifestazione pesarese CNA Idee in moda è un progetto che ormai ha 9 anni È diventato un ragazzino Non è più un bambino È un progetto che quindi si è accreditato Si è accreditato tanto che negli ultimi 3 anni abbiamo fatto 5 edizioni di CNA Idee in moda Anche a Minsk, all'estero E abbiamo portato oltre 50 aziende in Bielorussia E che hanno avuto la possibilità di far vedere le loro grandi creazioni Di aprirci nuovi mercati In una edizione dedicata quasi esclusivamente alla moda mare Agli abiti da donna e da sposa Sono stati tanti i protagonisti della sfilata Le bellissime avvenenti Anna Falchi Le veline di Striscia la Notizia Ludovica Frasca Irene Cioni La showgirl Pamela Camassa Particolarmente applaudito dal pubblico femminile L'attore del film e fiction Nicolas Vaporidis Credo che l'eleganza sia nella semplicità E negli accessori, in qualche piccolo dettaglio Però mi piace, mi piace vederla soprattutto addosso agli altri Mi piace vedere altri vestiti in modo piuttosto colorato Ecco, quello sia Possiamo dire che si trova a suo agio in questa piazza? Sì, decisamente Non lo so come mai mi sento a casa Ho fatto una parte di vita qua importante Sono felice perché ci sono anche tanti amici Che stanno qua stasera In questo show Qual è il rapporto con la moda di Anna Falchi? Ma mi piace indossarla Fra virgolette si dice interpretarla Così però nella vita privata sono estremamente semplice Non seguo i dettami della moda A presentare la serata è stata l'ormai inossidabile E Gio Squillo, la popolare presentatrice di sfilate di moda E conduttrice del programma TV Moda Con la partecipazione arguta e competente Del direttore del settimanale nuovo Riccardo Signoretti È un'impresa, anche questo Le persone forse lo possono capire È sempre un'impresa andare in giro per il mondo A raccontare Ma è anche una cosa bellissima capire Che noi siamo i migliori e la facciamo in modo migliore Come la moda lo testimonia in queste ultime passerelle I maggiori stilisti sono italiani È ritornata anche una grande Roma Che ha sfilato per l'Hot Couture Quindi non posso che essere orgogliosa adesso di essere qua a Pesaro E sempre in tema di appuntamenti Vi ricordiamo quello di questa sera La BCC Arena Alle ore 21 con il teatro dialettale Questa sera andrà in scena la compagnia dialettale Il GAF con Puteva G. Anka Pegge Bene, grazie per essere stati in nostra compagnia E per aver seguito questa edizione di Occhio a una notizia Buon proseguimento con i programmi di Fano TV Arrivederci a domani sera Grazie a tutti